Eh, Mariano, tutta questa povertà che avanza mi fa una pena. Ma ce lo dite, signorini? Fare qualsiasi cosa pur di aiutarli, è vero no, Emma? Mariano, ma voi veramente vi privereste di qualsiasi cosa? Veramente? Veramente! Facciamo un esempio, Mariano. Ora scendo dalle scale, scendo un poverino, voi gli date la vostra motocicletta. Gesù, quello è stato in uno stato di bisogno. Io non c'ho la motocicletta. E perché non ce la trovo i dati? Ce la dongo, sì. E se vi chiedesse l'automobile? E se ti chiedesse l'automobile? Già, è un libretto. Ti, cassa la macchina. Fa quello che vuoi tu. Quando non aveva bisogno, aveva bisogno. E noi che esseri umani siamo, se non aiuta la macchina? Eh? E allora senza detto gli daresti la casa? Gli daresti la casa? Gesù, quello non è molto l'ha detto, signorini. E senza detto. Io prima però io c'era l'automobile, un po' di notare. Facessi proprio passaggi ai proprietari. Gli altri strumenti, cassa la casa. Gli mangiassi. Se no che essere umani siamo. Eh? Eh? E se vi chiedessi il telefonino glielo dareste? E gli daresti pure lo smartphone? Mai! Lo smartphone, mai! Mariano, ma in concluenza. Ma come? Gli avete dato la motocicletta, la macchina, la casa, e non gli date lo smartphone? E perché? E perché lo smartphone è l'unica cosa che tengo veramente. I recommend... .